In questo video tutorial ci occupiamo di inserire contenuti nelle varie voci di menu ma non lo facciamo editando da zero il nostro contenuto ma lo preleviamo dal nostro sito modello e molte di queste pagine come vedete nel sito completo sono già preimpostate e scritte e quindi si può benissimo fare un'opera di copia e incolla e poi andarle a personalizzare per la parte che compete direttamente alla scuola andiamo sul nostro modello e andiamo sul nostro sito in via di costruzione prendiamo qualche esempio qua e là scendiamo sotto e vogliamo adesso creare la pagina note legali che nel nostro modello vedete è assolutamente vuota scusate nel nostro sito andiamo nel modello, clicchiamo su note legali e vedete che c'è già un facsimile di testo preso peraltro dai lavori di Angelo e di Franca nei loro bei siti bene, cosa facciamo? andiamo sul sito completo e andiamo a selezionare semplicemente tutta la parte del contenuto centrale escluso evidentemente il titolo note legali che invece sarà il titolo della pagina e quindi già presente andiamo adesso sul sito che stiamo costruendo rifaccio l'operazione dall'inizio clicco su note legali apro la pagina, se sono in pannello di amministrazione la posso modificare cliccando o su modifica pagina o su edit in questo modo si va direttamente nel pannello di amministrazione in corrispondenza della pagina da modificare lasciando aperto la modalità cosiddetta visuale quindi non quella HTML che contiene il codice ma quella visuale che invece mi consente di vedere ciò che ottengo mi posiziono in corrispondenza della prima riga primo spazio disponibile e con CTRL V incollo il testo vedete che il testo è stato correttamente inserito esattamente come era nel sito di riferimento controlliamo l'HTML è utile per cominciare a vedere un po' come viene gestito il codice e noto soltanto due anomalie che tolgo vedete che qua in testa il sistema ha creato in automatico dei div che sono dei marcatori che mi permettono di gestire la pagina come se fosse un po' in blocchi li tolgo tolgo quelli di apertura che sono all'inizio vedete? li sto cancellando tenete conto che se poi li lascio non succede proprio nulla ma è una sorta di elemento inutile il WordPress li ha messi ma li avrà anche da qualche parte chiusi un po' come una parentesi aperta e chiusa dove li trovo? li trovo qua alla fine vedete? lo stesso marcatore div quando è chiuso presenta una barra come a dire chiudi il marcatore togliamo questo e togliamo quello il resto vedete è tutto perfetto ecco questo è un po' il codice guardiamolo un attimo ci sono alcuni elementi ci sono i paragrafi i paragrafi sono un po' come le frasi dotate di senso compiuto e non hanno una marcatura specifica sono in pratica gli elementi di testo standard e poi sopra vedete che c'è invece un copyright e download che è marcato all'interno di questi marcatori H3 aperto H3 chiuso cosa sono H3? sono titoli e uno degli elementi importanti anche di accessibilità è di avere i testi strutturati secondo livelli cosa vuol dire? immaginiamo un po' un libro con i vari suoi capitoli le varie sezioni, sotto capitoli e via discorrendo bene, ogni pagina HTML deve avere questa struttura interna con una gerarchia precisa di titoli voi potete chiedere come mai? allora partiamo con un H3 che vorrebbe dire titolo di livello 3 partiamo con un H3 perché in automatico WordPress ha già utilizzato i titoli di livello superiore il cosiddetto H1 lo delega al nome del sito cioè alla vostra scuola l'H2 che è il titolo di livello appena sotto invece viene automaticamente poi associato al titolo in questo caso a note legali cosa vuol dire questo? una cosa importante è che quando noi strutturiamo i nostri contenuti in particolare il testo che appunto appare nella nostra pagina partiremo come livello più alto dal livello 3 che è figlio del titolo note legale poi copyright e download può avere al suo interno dei fratelli e sono dei sottotitoli di uguale posizione gerarchica ad esempio accesso ai siti esterni collegati vedete con altro H3 piuttosto che i virus informatici se noi torniamo in modalità visuale noterete che sono tutti scritti nello stesso modulo vedremo ancora di più quando pubblicheremo questo perché la modalità di visualizzazione dei test e dei contenuti viene affidata a un foglio di stile esterno questa è una cosa molto utile perché in questo modo tutti gli elementi marcati come elementi di strutturazione del titolo 3 saranno scritti tutti con lo stesso carattere stessa dimensione, stessa spaziatura, sopra e sotto insomma garantiamo una completa coerenza grafica con un vantaggio ancora aggiuntivo che nel caso in cui noi volessimo modificare qualcosa nella grafica decidessimo che tutti i colori, che tutti i testi di livello titolo 3 invece che, non so, blu siano scritti in rosso scuro beh a questo punto basterà modificare la regola del foglio di stile che è delegato appunto a, diciamo, guidare quello che è a governare meglio ancora quello che è l'aspetto grafico del nostro sito bene, detto questo non ci resta che vedere invece in modalità visuale come viene a essere stato conferito un titolo di livello 3 vado allora in corrispondenza del titolo copyright e download vedete, in automatico, testata 3 questi sono proprio, no, quegli elementi di marcatura dei testi testata 1 e testata 2 ricorda, eh ricordiamo, eh, questa è una traduzione che è un po' infelice non sarebbe titolo 1 e titolo 2 non li utilizziamo mai perché sono già spesi da wordpress noi partiremo a marcare da testata 3 in avanti i titoli del nostro contenuto di livello maggiore saranno testata 3 cioè titolo 3 in html h3 quelli figli suoi saranno testata 4 o h4 aggiungo un'ultima osservazione per dire quanto è importante marcare correttamente il testo nel modo che abbiamo appena visto questo è il modo che i nostri cittadini non vedenti utilizzano per facilmente andarsi ad orientare all'interno di una pagina web loro utilizzano delle particolari sintesi vocali che restituiscono il contenuto imparlato bene, con la loro tastiera hanno un tasto apposito che consente loro di navigare per titoli quindi capite che di fronte anche a una pagina lunga le persone non vedenti hanno appunto la possibilità di giustrare all'interno della pagina con un semplice movimento di dita sulla tastiera in questo modo a loro viene restituita la nostra facoltà di scansionare una pagina con lo sguardo in questo caso lo sguardo è rappresentato rappresentato dallo scorrimento testuale da un titolo di livello superiore a un titolo a livello inferiore trovato il titolo che interessa cioè la notizia interna su cui soffermare noi vedenti daremmo lo sguardo loro direbbero l'attenzione ecco che si genere in automatico una sorta di link che consente loro di accedere solo a quel contenuto specifico e quindi guardate proprio una delle cose più importanti è il livello di accessibilità a volte dimenticata, a volte ignorata a volte guardata magari con scarsa attenzione invece è forse uno degli elementi di accessibilità più preziosi sempre riferito al versante non vedente ovviamente adesso clicchiamo su aggiorna e andiamo a vedere la nostra pagina con visualizza pagina noi andiamo a vedere proprio ecco la nostra bella pagina messa naturalmente ci sono ancora dei punti qua dei puntini che voi dovrete riempire con il nome del vostro istituto rileggetelo con attenzione ma questa è già una pagina bella e pronta come abbiamo riempito la pagina note legale voi potete riempire tutte le pagine che sono già state inserite nel nostro sito modello non tutte tranne quelle evidentemente che contengono gli articoli dei mesi precedenti o di circolare gli news perché queste non sono pagine ma sono meglio ancora pagine che al loro interno hanno il filtro degli articoli contenuto che dobbiamo ancora prendere in esame però tutte le altre glossario accessibilità dove siamo contatti e da la scuola in giù possono essere realizzate con il metodo che vi ho appena mostrato vediamone ancora uno prima di concludere un pochettino più spinoso degli altri che è la pagina glossario se io clicco su glossario vedete che tra l'altro ho qua una sorta di navigazione interna queste sono proprio quelle parole calde che fungono da segnalibri interni che possiamo gestire proprio grazie all'installazione del plugin TinyMC Advanced perché è una pagina un po' particolare rispetto a note legali torniamo su note legali vedete adesso accade la lunghezza che però è una cosa accessoria la pagina bella pulita non c'è in alto ecco la specie di pezzettino azzurro ecco quando c'è questo azzurro in realtà è stato messo un div aggiuntivo cioè un box aggiuntivo o meglio una classe al paragrafo che fa in modo che quel contenuto abbia un particolare sfondo e allora vediamo il metodo 2 per fare un copia e incolla che si presta utile a quel 5% di pagine un pochettino più complesse in maniera molto infilica potremmo dire se il risultato non vi soddisfa col metodo copia e incolla tradizionale proviamo a vedere questo secondo bene torniamo sulle nostre pagine sul nostro sito che stiamo costruendo per me è il sito di prove clicchiamo su glossario vedete che bella vuota e andiamo su modifica pagina stavolta vedete in visuale vuota in html vuota questa volta usiamo una tecnica diversa invece che fare il copia e incolla per selezione quello più semplice noi siamo adesso con firefox se uno usa esplora avrà un comando analogo tasto a destra del mouse visualizza sorgenti di pagina ecco che vedete qua c'è proprio l'html di restituzione della pagina qui è un pochettino più un lavoro da certosino non è così semplice come nell'altro caso però ci sono dei trucchetti uno può utilizzare delle funzioni di firefox per cercare una parola particolare allora io vado qua su modifica e scrivo trova glossario perché così vado direttamente sul punto che mi interessa ecco non è ancora qua vado successivo ecco qua mi sposto grosso modo nella posizione voluta qual è la posizione che mi interessa quella del glossario è quella scendendo un po' giù nel nostro codice che è appena sotto la riga div class post entry è una cosa che mette wordpress per dire che quello è un po' il contenuto che noi abbiamo messo in quella finestra di editazione e seleziono anche se non conosco ancora bene il codice però so da dove parto dalla riga successiva quel div class post entry e vado giù giù fino vediamo adesso come questa è una pagina molto lunga per cui se riusciamo a far questo ormai riusciamo quasi a far tutto perché le altre pagine sono tutte più corte quindi qua scendiamo e scrolliamo parecchio con il nostro scrolling verticale ci fermiamo fino a appena dopo la parte verde la parte verde lo dico in caso ci fossero delle persone non vedenti che seguono questo tutorial e quelle che inizia con rdf rdf xlmns cose di questo tipo e ci fermiamo alla riga appena sopra la chiusura di un div che è il div che usa wordpress per inserire il contenuto ma che non interessa cioè in pratica sulla parte che abbiamo visto poi nella pagina precedente che era ritorno all'indice alfabetico quindi copiamo l'html tasto destro copia torniamo adesso nella nostra pagina nella nostra pagina di modifica del glossario del nostro sito non vado in visuale ma incollo direttamente all'html ctrl v avete visto l'abbiamo incollato vado a vedere in visuale c'è tutto in visuale non vedo quello sfondino azzurro perché lo vedo poi nel momento in cui pubblico aggiorna e andiamo a vedere adesso la nostra pagina vediamo se funziona vedete perfettamente identica a quella originale insomma abbiamo fatto un buon lavoro e soprattutto con pochissimo tempo abbiamo rimesso una pagina che magari sarebbe stata molto più impegnativa scrivere da zero